Ecco qua, siamo partiti, salve a tutti, questo è un extra webinar, un webinar straordinario su uno strumento interessante e qualche altra utilità che potrà servirvi non solo per lo storytelling ma anche per altre attività didattiche quello che vorrei presentarvi è Read, Write, Think e quindi leggi, scrivi e pensa si tratta di un sito, anzi un vero e proprio ambiente studiato per l'apprendimento che è però dedicato alla comunicazione è dedicato cioè a sviluppare negli studenti le capacità, le abilità e quindi direttamente anche le competenze relative alla lettura, alla scrittura e al pensiero, potremmo dire al pensiero critico è free perché si tratta di un'associazione no profit quindi è il risultato di una precisa politica open source, potremmo dire è molto facile da utilizzare e offre centinaia di strumenti e di risorse tra cui anche tante applicazioni per gli studenti, per gli insegnanti diciamo che offre inoltre tante altre caratteristiche che lo rendono particolarmente indicato per un utilizzo didattico per esempio non richiede nessun tipo di registrazione né da parte degli studenti né degli insegnanti potete usare tutto senza registrarvi poi gli strumenti e le risorse sono classificati per livello, per grado di istruzione sono ovviamente in inglese, ma poi vedremo che questa non è affatto una difficoltà se non lo è per me, che ho rischiato anche di essere rimandato in inglese tantomeno lo sarà per voi inoltre queste applicazioni rispondono a varie esigenze abbiamo applicazioni per scrivere racconti, per analizzare racconti per delineare personaggi, ma anche per imparare a riassumere per imparare a strutturare un testo argomentativo, ad analizzarlo quindi tantissimi obiettivi che soddisfano tantissime esigenze adesso vedremo anche come reperire le risorse che ci occorrono abbiamo inoltre anche progetti di unità didattiche moduli di apprendimento, esempi, buone pratiche e via dicendo una caratteristica di ReadRethink se cliccate qui, naturalmente vi ho già dato in descrizione del video quindi vi accederete alla registrazione quando la pubblicherò vi ho dato il link a questa presentazione se cliccate qui comparirà un mio articolo l'articolo è troppo pretenzioso diciamo, una presentazione di ReadRethink dedicata in particolare agli strumenti didattici ma che illustra anche le caratteristiche di questo ambiente andiamoci subito chiudiamo ecco, questa è la pagina principale vedete che c'è un menu la difficoltà è trovare quello che ci occorre dicevo, c'è un menu qui abbiamo delle risorse per il doposcuola e per le famiglie qui abbiamo dei video non lo conosco, è una sezione nuova qui abbiamo risorse per l'aggiornamento professionale noi ci concentreremo sulle risorse per gli studenti, per la classe velocemente questi sono progetti chito scusa progetti di unità didattiche pianificazione di lezioni a noi interessano le applicazioni interattive per gli studenti queste sono applicazioni mobile quindi per i dispositivi mobili questi sono strumenti per gestire e calendarizzare le attività e questo è per la stampa di moduli ecco, come trovare ciò che ci serve perché abbiamo, ecco, premio solo per Kindengarten quindi abbiamo 474 risorse quindi, come si dice insomma, quello che io chiamavo asilo ma adesso hanno nomi più complicati per il primo livello abbiamo 515 risorse e così via guardate quante risorse ci sono veramente centinaia beh, e la prima cosa che possiamo fare è per esempio utilizzare questo box di ricerca per parole chiave se per esempio io voglio strumenti per supponiamo riassumere aiutare i studenti a riassumere scriverò sumarize mi pare me lo sono cercato prima avete sbagliato sumarize ah sì, no, funziona e vedete mi rende una 10 pagine e 181 risultati ordinati lo vedete qui in base a queste 4 voci di menu a noi interessa abbiamo detto class sum resource che è questa e possiamo cliccare ecco per esempio qui abbiamo mystery cube serve per riassumere e lo vedremo anche il mystery cube questo è un modo per cercare le nostre risorse andiamo a vedere per esempio mystery cube abbiamo trovato supponiamo la risorsa che ci interessa come tutte le altre applicazioni che offre che offre redrive think si tratta di una risorsa estremamente semplice studiata per non disturbare scusate la parola le attività didattiche cioè non dobbiamo come dire distogliere la nostra attenzione da ciò che stiamo facendo con i ragazzi o i bambini o le ragazze e le bambine per studiare informatica impratichirci aggiornarci tecnicamente perché si tratta veramente di strumenti semplici la maggior parte di questi strumenti tra l'altro possono essere anche sostituiti con strumenti analogici penna e carta cosa ci offre oltre che all'applicazione che funziona purtroppo con flash ci offre tutta una serie di informazioni per capirci qualcosa dato che noi non siamo nativi inglesi clicchiamo col destro e scriviamo chiedo scusa selezioniamo traduci in italiano ora tutti ma proprio tutti i browser hanno questa funzione io sto usando Chrome e vedete che tutto si chiarisce io qui ho la possibilità di andare a una panoramica di questa applicazione il mister di cubi interattivo è stato cambiato in un nuovo formato il cubi creator riassumere le informazioni è un'importante attività di post ecco questa forse è l'unica parola tradotta male che aiuta gli studenti a sintetizzare vedete che si capisce perfettamente tranne qualche parola incidentalmente stramba il resto è tutto molto chiaro poi ci vengono offerte delle lezioni molto interessante ordinate per grade lì abbiamo negli Stati Uniti 12 gradi noi ne abbiamo 13 quindi classi quinta e sesta corrispondono alla nostra quinta elementare alla prima media ma si arriva fino a 11 e 12 che sarebbero le classi terminali del triennio io dico ancora triennio non due bienni e il monoegno finale che orrore per esempio ognuno ha un mistero uno studio di genere questi sono lavori fatti da colleghi statunitensi con i loro studenti e poi li hanno documentati per condividerli come pratiche da cui trarre per così dire ispirazione festeggia Halloween l'attore Louis Duncan è nato in questa data con pensione guidata eccetera eccetera vedete andiamo a vedere nel classi 11 e 12 anche qui ci propongono ci si vengono a proporre attività queste sono le stesse sviluppare la comprensione la fluidità con testi audio il caso della storia poliziesca classica è bellissimo perché possiamo trarre ispirazione e lo possiamo tradurre in italiano bene adesso torniamo alla nostra presentazione e andiamo avanti naturalmente vi ricordo che c'è un ritardo di 30 secondi circa tra quello che io dico e quando quello che io dico arriva a voi bene più esattamente pensiero critico e pensiero creativo strumenti di scrittura lettura per il pensiero critico e il pensiero creativo e quindi scrittura creativa poesia come prendere appunti abbiamo dei simpatici strumenti molto semplici adatti anche agli studenti più piccoli per insegnare a prendere appunti come creare una storia come realizzare un riassunto è inutile che io continui a leggere sapete leggere anche voi eccetera eccetera addirittura lo voglio segnalare come creare una IQ quindi è molto carino è molto divertente anche iniziamo subito con Cube Creator chiedo ancora a Venia per la mia pronuncia inglese qui avete un link a un video tutorial in italiano che mi pare ho fatto io e qui abbiamo il link a Cube Creator bene andiamo su Cube Creator e vediamo come funziona clicchiamo su get started ecco qua non possiamo ingrandi ah no questo si ingrandisce per fortuna come vedete dobbiamo prima di tutto inserire il nostro il nostro nome ecco qua modestia a parte e poi abbiamo quattro possibilità possiamo costruiremo dei cubi l'output per così dire sarà ciò che ci rende questa attività un foglio stampato che noi possiamo piegare e trasformare in un cubo oppure un documento PDF che possiamo usare per creare la nostra storia questo strumento ci permette sia di costruire una storia BioCube ci permette di costruire la biografia di un personaggio della nostra storia ma naturalmente anche la biografia di uno scrittore di uno scienziato e così via Mystery Cube ci permette di qui non possiamo purtroppo tradurlo in inglese pianificare i passaggi di un racconto del mistero di un racconto giallo e così via Mystery Cube invece è una storia qualsiasi non necessariamente appartenente al genere giallo o horror mentre qui possiamo creare il nostro proprio cubo rispondente alle nostre esigenze adesso vediamo cosa vuol dire iniziamo dal più semplice il BioCube vedete è molto carina anche la grafica qui possiamo selezionare quello che ci interessa iniziamo dal punto 1 il nome del personaggio io sto scrivendo di Pippo periodo di tempo che ne so la guerra di Troia e il posto è naturalmente la penisola anatolica facciamo i colti non correggerò gli errori perché altrimenti non la finiamo più passiamo oltre Personal Background quali sono i più importanti eventi della vita di Pippo e qui scriverò gli eventi evento 1 è stato abbandonato dai genitori a un pastore evento 2 incontra tre top model con una mela evento 3 si mangia la mela 4 i tratti le caratteristiche della personalità di Pippo ingenuo è invulnerabile perché la mamma l'ha emerso in un fiume sto scrivendo malissimo perché sto parlando nel mentre l'ha invulnerabile l'ha emerso in un fiume quando era piccolo tenendo però per le orecchie quindi le orecchie sono l'unica parte vulnerabile e così via continuiamo a vedere che cosa ha fatto di importante Pippo adesso qui non scriverò nulla quali ostacoli si frappongono alla realizzazione degli obiettivi di Pippo e qui scriveremo altre cose importanti citazioni cosa ha detto Pippo caspita eia era sardo e via dicendo a questo punto diciamo che ho finito e clicco su poi potrete vedere nel video tutorial molto più semplicemente adesso voglio solo dimostrare col biocube come funziona e che cosa ci rende andiamo su finish come vedete io ho la possibilità di salvare il risultato finale in pdf qui appunto do un nome al file clicco su save e il file verrà salvato Pippo save ecco qua e lo posso salvare se io non salverò altrimenti posso stamparlo qui ho la mia stampante stampo e come vedete lo ritaglio e lo trasformo in un cubo un cubo che può essere manipolato che ragazzi i bambini ragazzi io l'ho fatto fare anche gli studenti dell'attresa liceo sui filosofi no chiedo scusa questo non l'ho fatto ancora fare lo devo ancora far fare perché posso anziché un personaggio inserire le caratteristiche della filosofia di un autore quindi lo posso manipolare dicevo i ragazzi se lo passano si passano i cubi di diversi personaggi e così via io adesso annullerò chiuderò exit e sono uscito accidenti e vi spiego un attimino ho sbagliato il cubo personalizzato ah devo scrivere un nome omero no vabbè cubo personalizzato ecco e qui posso per esempio porre delle domande oppure costruire un mio cubo personalizzato individuare delle categorie il pensiero sulla natura quindi l'etica dell'autore che sto trattando di cui prima ho fatto fare il biocube e poi non so cosa pensa di Dio cosa pensa della conoscenza eccetera eccetera e poi stamperò il tutto quindi posso adattarlo alle mie esigenze ecco questo è come avete potuto vedere il cubo crietro è veramente carino come vi sarete resi conto poi si tratta di una procedura guidata che ci aiuta a costruire e organizzare un determinato discorso biografico narrativo eccetera e che si può adattare grazie al cubo personalizzabile a tutte le esigenze anche esigenze non assolutamente narrative o letterarie o umanistiche bene chiudiamo torniamo alla nostra presentazione e andiamo avanti non spaventatevi immagino sarete rimasti orripilati da questa vista del grafico di Dillingham Haller la rappresentazione visuale di una storia con cui vi ho tanto annoiato all'ultimo webinar è solo per farvi capire che quello che andremo a vedere adesso è ispirato proprio a questo schema a tre atti di aristotelica memoria esistono due versioni una per bambini più piccoli e una e qui avete il videotutorial e una per studenti più grandi non c'è il videotutorial ma funzionano allo stesso modo qui siamo proprio nell'ambito la telecamera è qui la webcam è qui nell'ambito della narrazione è uno strumento per costruire creare una storia o per analizzare una storia che si è letto anche questo come vi renderete conto lo possiamo sostituire con la lim con la carta e la penna con strumenti analogici o digitali di altro tipo potremmo costruire una serie di slide ispirata a questa procedura guidata andiamo a vedere oddio non ho messo il link story map andiamo a vedere story map lo cerchiamo intanto story map vedete compare subito aspettate questo forse è un'altra cosa chiedo scusa per aggiungere il link allora si chiama read read link story map ecco questo dovrebbe apparire vi chiedo ancora scusa vediamo se è questo sì è questo questo purtroppo vedete rimane piccino quindi purtroppo la vostra visione non sarà granché scriviamo titolo pippo come sempre by omero naturalmente e andiamo a definire questa è la mappa del personaggio più o meno l'abbiamo visto come funziona la mappa del conflitto chiedo scusa torno un attimo indietro vado su edit no non si tratta di edit clicchiamo sulla tab su questa etichetta per chiudere vabbè qui come vedete mi compare una domanda è una procedura guidata in cosa consiste il conflitto e qui mi si daranno dei suggerimenti un'altra persona una cosa una sfida un'aspirazione del personaggio e qui io scriverò il conflitto pippo non sa a chi dare la mela clicchiamo enter invio e compare una seconda domanda perché si ha questo conflitto perché tre top model litigano su chi è la più bella eccetera eccetera vediamo ancora clicchiamo invio e in che modo il conflitto può essere risolto dando la mela a una di esse e pippo la da a belen e poi scappa con belen e la rapisce a fabrizio corona posso vedete passare adesso alla resolution map per esempio la setting map andiamo alla setting map la setting map mi da la location per così dire place le colline della trova che adesso non vorrei fare battute misogene poi quindi dov'è il luogo in cui si svolge questo conflitto e così via è inutile adesso che io stia continui a mostrarvi queste procedure sono abbastanza semplici come vedete e come vedete si tratta di qualcosa che i ragazzi possono fare a casa da soli possiamo fare insieme in classe con la lim questo è il vantaggio perché si può fare poi tutto anche in via analogica e poi anche qui possiamo l'avete già visto stampare una di queste mappe o tutte e quattro se le abbiamo preparate tutte e quattro e così via adesso chiudo e torniamo alla nostra presentazione vi dicevo che qui abbiamo per gli studenti dei superiori una drama map si chiama un po' più complessa andiamo avanti questo è il plot diagram siamo sempre lì è sempre Aristotele sono sempre Dillingham e Oller anzi Oller e Dillingham eccetera eccetera vi sono due versioni una è ispirata all'Eros Journey al viaggio dell'eroe e una allo schema tre atti clicchiamo su plot diagram questa ve la faccio vedere perché presenta qualche leggera differenza mi scuso ancora una volta io non posso ingrandire purtroppo e quindi dovrete accontentare vedete se clicco qui anche se faccio control più ah no si può ingrandire meraviglioso allora titolo Pippo e Belen by Omero scusate adesso sto sfruttando questo esempio next quindi passiamo oltre quindi come vedete questo non lo posso vedete tradurre anche se mi metto traduce in italiano non me lo traduce perché è flash e quindi amen dunque qui ho strumento per editare posso cambiare il titolo clicchiamo per chiudere ho un aiutino qui mi spiega cos'è il plot diagram e come vedete insomma più o meno è quello di cui abbiamo già parlato qui mi dà dei consigli vedete cita anche lui Aristotele bla 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 e poi questo è per stampare quindi chiudiamo adesso allora come vedete questo è l'esordio la parte centrale è la fine io posso anche utilizzare un altro schema più più pro piano e quindi l'esposizione poi la tensione sale fino ad arrivare a un climax e poi lo scioglimento fino alla risoluzione finale dell'azione inseriamo i nostri eventi li discutiamo con gli studenti o ciascun gruppo di studenti discute perché abbiamo letto una storia e dobbiamo vedere cosa succede nell'esposizione Pippo e le pecore scrivo di Pippo che sta sul colle bla 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 dopo che i genitori l'hanno abbandonato terminato di descrivere prendo questo rettangolino viola e lo trascino qui poi il secondo evento le tre top e qui parlo delle tre top model che litigano della mela poi Pippo e Belen poi la vendetta di Fabrizio Fabrizio non ci sta perché i caratteri sono limitati e finalmente il duello tra Pippo e Fabrizio Corona posso spostare vedete posso anche sviluppare magari la storia è così cioè c'è una una fase la fase che va dall'esposizione quindi la fase in cui la tensione stava in cui l'intreccio si infettisce in cui ci sono le varie prove per i pezzi è più lunga e quindi vedete posso inclinare un po' il mio plot diagram ok e poi continuerò così stampa print e anche qui vedete posso stampare o naturalmente qui non mi sembra che offra qui non c'è scritto niente ovviamente perché non abbiamo scritto niente posso anche modificare questo lo saprete fare io lo faccio vedere lo stesso salvarlo come pdf quindi basta cliccare su modifica salva come pdf e me lo salvo nel mio disco rigido adesso chiaramente io annullerò bene questo era un plot diagram come avete visto è molto carino è molto interessante possiamo vedere poi altre cose torniamo alla home ecco qui vedete che posso cercare ve l'ho fatto notare prima anche per livello ecco mi interessano i livelli più alti perché insegno al liceo più alti semplicemente in termini anagrafici per carità è livello 12 e qui mi offre tutta una serie di strumenti per l'aggiornamento risorse per la classe eccetera eccetera altrimenti posso cercare ma insomma abbastanza chiaro per tipologie vedete qui mobile apps ne ho 13 applicazioni per studenti ne ho varie creare una poesia un acrostico organizzazione alfabetica c'è anche un video qui biocube copertine per il cd il dvd circle plot diagram l'altro di cui vi ho detto creare fumetti qui serve analogie e differenze all'interno di una di una tematica anche questo è molto bello è molto bello creare parole crociate veramente guardate poi lo esplorate da soli vi ricordo appunto per arrivare a questo dovete andare su cancelliamo adesso questo criterio ricerca perché possiamo anche combinarli dovete andare su dunque livello ecco ecco questo student interattivi ti vedi per organizzare e riassumere per esaminare more per scrivere pubblicare per apprendere i linguaggi scegliete quello che più vi interessa ed esplorate bene chiarità anche questi ulteriori strumenti di ricerca perché ovviamente essendoci tante risorse il problema è appunto quello di riuscire a trovare quello che vogliamo andiamo continuiamo la nostra passeggiata anche qui non spaventatevi è perché adesso abbiamo un piccolo strumento che è ispirato al viaggio dell'eroe di Campbell qui c'è una recensione di irosjourney che vi potete leggere e c'è anche un videotutorial ah no non l'avevo ancora fatto il videotutorial quindi andiamo a vedere irosjourney giorni spero si pronunci così vedete è sempre uguale possiamo anche naturalmente esplorare vedete attività qui soprattutto per i ragazzi più grandi andiamo a vedere come funziona ok nome omero titolo pippo partiamo e qui c'è tutta una spiegazione quella che io vi ho fatto sul viaggio dell'eroe dai un nome e descrivi il tuo eroe e quindi pippo e descrivo il mio eroe scusate vedete questa è l'introduzione adesso non mi ricordo cosa facevo andare avanti la cosa bella è che ho pure fatto la vediamo facciamo enter non funziona introduction è quello che abbiamo visto prima info no andiamo a pescarlo dove è andato a finire ora non ricordo sarà questo preview sì è questo scusatemi ecco qua il nome dell'eroe è pippo la nascita inusuale che è una caratteristica che Campbell mette in evidenza gli eroi ha sempre problemi alla nascita vengono abbandonati e il padre non si sa chi sia eccetera in pratica vi fa vedere le fasi del viaggio dell'eroe di Campbell Vogler l'aiuto sovranaturale il talismano anche qui non fa tradurre purtroppo però insomma le conoscete e ve le potete vedere nella mia nella presentazione del 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 webinar che ho a che avete a vostra disposizione la trovate anche sulla mappa attraversamento della soglia eccetera eccetera alla fine stamperò questo naturalmente io posso semplicemente evitare tutto questo prendere le fasi le dodici fasi perché le riduce a dodici Vogler e proporle agli studenti con un foglio Word o magari Google Drive condiviso con i miei studenti in modo che tutti da casa possano scrivere una di queste dodici sezioni perché li ho divisi sono ventiquattro li ho divisi in dodici gruppi una sezione dopo aver naturalmente ideato un plot una trama insomma condivisa altrimenti ognuno scrive qualcosa di differente dall'altro e non ci mettiamo d'accordo non ci capiamo bene torniamo ancora una volta alla nostra presentazione e penso di avervi mostrato questi strumenti che sono strumenti molto semplici cioè io qui insisto io non ho il tempo mi piacerebbe tanto e ogni tanto cerco di farlo di imparare Edmondo o di imparare quell'altro di cui non mi viene mai il nome o di imparare a usare bene la realtà aumentata e quindi i codici QR naturalmente qualche volta ci provo però sono progetti molto impegnativi e spesso io invece preferisco usare questi strumenti che sono piccoli strumenti alla portata mia e dei miei studenti che riesco proprio per la loro semplicità ad adattare a qualsiasi situazione è un passo piccolo ma come dicevo l'altra volta la OZE o la OZU a seconda del sistema di trascrizione anche il più lungo dei viaggi comincia da un primo passo bene voglio ora presentarvi uno strumento quindi andiamo oltre Read, Write, Think vi invito ad esplorarlo anche perché si fa tardino siamo già a un'ora velocemente l'arazzo di Baillet l'arazzo di Baillet è un arazzo che risale a 1070 ordinato da Oddoni di Baillet vescovo di Baillet fratello di Guglielmo il conquistatore per festeggiare la vittoria dei normanni sui sassoni nella battaglia di Hastings nel 66 qui avete anche un articolo che vi racconta di questo arazzo c'è anche un video animato dell'arazzo di Baillet che è più di 70 metri mi pare ci sono 190 animali 70 prima l'ho letto mi sono già dimenticato le cifre 70 personaggi ci sono oggetti ci sono scenari ci sono navi ci sono castelli quindi è un fumetto perché poi ci sono frasi in latino è forse il primo fumetto almeno di cui noi abbiamo traccia del nostro mondo della nostra civiltà europea andiamo chiedo scusa andiamo a vedere questo strumento semplice semplice molto elementare per costruire come dice il termine fumetti storie storiche come vedete è molto basilare primitivo eccetera c'è un video tutorial che vi spiega come fare per cui adesso vi mostrerò come prendo trascino un personaggio lo ruoto lo allungo lo ridimensiono questo ecco mi hai colpito maledetto qui clicco e posso scrivere ai 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 posso cambiare il colore oh oh no scusate basta fare così per cambiare il colore posso aggiungere uno scenario andiamo per ordine qui posso aggiungere un animale chip chip qui abbiamo palazzi ecco qui una casa in primo piano quindi la facciamo più grande questo è dietro la casa è in cima al tetto è salito in cima al tetto vuole colpire perché ha fame questo uccello persone ecco qui c'era da qualche parte il re eccolo qui io sono il re possiamo fargli dire finitela che non riesco a dormire e così via insomma navi abbiamo di tutto possiamo se vado un po' più giù lo vedete anche voi aggiungere pagine vedete aggiungo qui ho una sola pagina clicco qui miracolo due pagine possiamo inserire uno sfondo la cosa carina è che questi ragazzi hanno due ragazzi tedeschi mi pare ma questo vent'anni fa l'hanno fatto adesso l'hanno rifatto è adattato al web 2.0 hanno come vi sarete resi conto preso e ritagliato per così dire le immagini presenti nell'arazzo e noi possiamo costruire una storia ambientata nel medioevo con queste immagini salvarla scaricarla e così via è passata un'ora io continuo terminando con l'ultima diapositiva è una utility voi direte ma che diavolo è questa roba cosa c'entra questa è una slide che sto preparando per l'incontro che avremo la settimana prossima no si dico bene la settimana prossima a Lucca sabato chiedo scusa io non sono un grafico e quindi ho dei problemi quando devo costruire una palette di colori cioè scegliere i colori per il testo per lo sfondo per questo riquadro per quest'altro quadrato che ho sovrapposto all'immagine ho dei problemi non so bene come abbinare i colori si sono le basi della teoria dei colori quindi i colori primari secondari i colori complementari e tutte queste cose però insomma ho difficoltà ecco una possibilità può essere come ho fatto io qui che è bello brutta che sia almeno la palette dei colori è decente cioè i colori sono congruenti sono coerenti organici è quella di usare un piccolo strumento che vi mostrerò brevemente e poi chiudiamo perché può servirvi per esempio da suggerire agli studenti per costruire un poster io adesso ho dato un poster di filosofia da fare ai ragazzi come penso di avervi anche detto e vediamo subito io qui ho oddio ho sbagliato io qui ho cerco adesso quest'immagine ecco qui dovrei un attimo solo ho un sacco di immagini ma sono tutte ordinatissime temi collaborazione mi pare fosse questa ecco adesso andiamo alla avete il link o ve lo darò si chiama canva color generator palette eccolo qui ok guardate cosa succede adesso io ho bisogno di una palette di colori ho questa immagine la prendo la trascino qui oppure la carico al solito modo e lui miracolo mi crea una palette di colori questi sono i colori dominanti di quest'immagine è molto elementare ci sono programmi simili più sofisticati ma questo è basico ci basta è semplice è facile supponiamo che io voglia utilizzare questo che immagino sia preso da queste parti copy perché copy perché poi vado qui e per esempio voglio cambiare lo sfondo di questa cosa rendendolo analogo a questo colore questo strumento colore personalizzato ho copiato il codice esadecimale e vedete ho ottenuto questo risultato e mi sa che ce lo lascio pure ecco vedete può essere utile soprattutto per un poster ma come vedete anche in questo caso per una presentazione in cui racconto una storia per un fumetto e per tante altre cose bene una cosa molto carina è flipboard io sono già logato e guardate che carino qui andiamo per esempio in questi sono magazine che ho creato io narrazione digitale adesso vi faccio vedere l'aspetto che ha copertina scorro e questi sono tanti resource ci sono articoli ci sono video come potete vedere mappe testi di ogni tipo webinar eccetera eccetera tutti su questo tema come funziona le ho fatto io no io non faccio assolutamente nulla io mi registro creo questa rivista è molto semplice e poi premendo questo tasto dove lo trovo flip it lo aggiungo automaticamente a questa rubrica è uno strumento per la cura dei contenuti supponiamo che voi non abbiate tempo ancora di crearvi un vostro blog un blog di classe e volete raccogliere tutti i lavori dei ragazzi in un ambiente potete usare questo anche se non è l'uso primario per cui è stato pensato vi create classe quinta c però dovete aver pubblicato online le robe naturalmente le cose e poi cliccate su flip it qui mettete il link e cliccate su flip e automaticamente viene pubblicato l'uso proprio e mi imbatto in qualcosa di interessante prima mi stavo ripassando un po' di teoria dei colori questo mi interessa è veramente brutto è molto più bello che questo ecco una palette dei colori lo voglio salvare nella mia rivista clicco su flip scelgo la rivista e lo salvo e il risultato è quella bella rivista così ben impaginata così carina così interessante che posso facilmente condividere con i miei studenti molto semplice basta registrarsi e poi vi ho mostrato anche come si può in due modi diversi inserire materiale su flip board guardate veramente molto molto bella la resa ovviamente poi cliccando qui posso anche aggiungere dei commenti perché se presento lavori di miei alunni qui posso scrivere questo lavoro è stato svolto tra gennaio e febbraio in occasione del bla 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 hanno partecipato gli studenti della e gli studenti della posso inserire cioè anche commenti che diventano delle didascali a commento dell'immagine poi clicco e vedete si apre si lo so la privacy e tutte ste storie certo sono problemi anche quelli però lo potete usare per la cura dei contenuti per raccogliere come faccio io materiali su un tema che state affrontando e così via bene io non ho manco guardato cosa succede nella dashboard mi scuso Daniela è arrivata spero che vi possa essere interessato avrete quasi subito a disposizione la registrazione di questo webinar forse ho corso troppo ma voglio ricordarvi che tutte le risorse che vi ho mostrato le trovate qui per esempio se andate qui su ambienti di apprendimento trovate readrive think e trovate tutte le cose compresi link video tutorial eccetera di cui vi ho parlato potete anzi esplorare perché io qui in questi due articoli propongo circa una dozzina di applicazioni di readrive think che potete esaminare tutte queste cose vi farò poi prossimamente vedere come cercare immagini gratuite che più che gratuite sono immagini libere da diritti d'autore icone flat icon suoni gratuiti e appunto utilizzabili in modo legittimo comunque ricordate in questa mappa trovate è faticoso esplorarle per questo che ho voluto fare questo extra binar magari quasi tutto quello che ho detto lo trovate lì in un video in un articolo però era adesso per segnalarvi in relazione al nostro argomento il fumetto la narrazione segnalarvi alcune risorse che a me sembrano interessanti bene vi saluto vado a prendere il bimbo che purtroppo gradisce eccezionalmente il calcio e non qualche sport più classico come la lotta greco-romana o il pugilato la corsa sulle bighe e quindi vi devo proprio lasciare fermo la registrazione un attimo un attimo Grazie a tutti.